Svolgiamo insieme questo esercizio di progettazione concettuale logica di database. Si tratta di un reparto di maternità e si vuole andare a rappresentare una serie di informazioni riguardanti le madri che sono ricoverate, i bambini, informazioni sui medici, ostetriche, ecc. Il testo potete leggerlo interrompendo per qualche secondo il video. Iniziamo a leggere il testo. Si vuole rappresentare la base di dati della maternità di un ospedale. Per ogni madre si conosce il nome, l'età, il tipo di parto effettuato, cesareo o naturale, il numero di letto e distanza, eventuali malattie. Sulla base di ciò che c'è scritto potremmo rappresentare la madre con le seguenti proprietà, il nome, l'età e poi il parto. Una prima osservazione è relativa al fatto che non è presente un identificatore univoco, per cui lo aggiungiamo noi, che una seconda osservazione è che il nome forse non è sufficiente, ma è meglio registrare anche il cognome. E poi, normalmente, non si va a memorizzare l'età, ma si preferisce utilizzare la data di nascita. Perché? Perché qualora dovesse servire l'età, la si può calcolare a partire dalla data di nascita, mentre se si memorizza l'età, bisogna controllare quando questa età cambia, quindi, e andare poi a fare le modifiche necessarie. Per quanto riguarda il numero di letto e distanza e le eventuali malattie, le evidenzio e le prenderò in esame dopo, perché al momento non ho sufficienti informazioni. E, oltretutto, non sono delle proprie età che descrivono la madre, per cui, evidentemente, probabilmente le metteremo da qualche altra parte. Procediamo con la lettura del testo. Per ogni bambino si conosce il nome, la madre, il numero di lettino, la dieta, cioè la quantità di latte al giorno. Anche qui, numero lettino, lasciamolo un attimo da parte, poiché molto probabilmente sarà l'attributo di un'altra entità. Per ogni bambino si conosce il nome e la madre. Ecco, la madre anche non può essere un attributo di bambino, perché la madre è già un'entità, quindi ci sarà un'associazione tra la madre e il bambino. Quindi andiamo a vedere. La porzione di schema realizzata è questa. Abbiamo la madre, con gli attributi visti in precedenza, il bambino, che ha un identificatore univoco, un cognome, un nome e una dieta, e un'associazione tra la madre e il bambino, associazione che ha un suo attributo data di nascita, anche se questo attributo poteva tranquillamente essere riferito a bambino, e poi una cardinalità, 1N su madre, 1N su bambino. Come abbiamo ottenuto le cardinalità? Beh, ci domandiamo, data una madre, questa madre, nel contesto considerato, quanti figli può avere? Minimo uno, e ne può avere anche più di uno, perché potrebbe, per esempio, avere un parto gemellare. Ma questa non è l'unica considerazione da fare, perché tutto dipende dal fatto che noi vogliamo mantenere un storico delle nascite nel reparto, perché se è così, allora una madre può tornare più di una volta nello stesso reparto per mettere al mondo più bambini, in tempi diversi, questo è il motivo per cui c'è questo attributo data di nascita. Dato un bambino, invece questo avrà, ovviamente, una ed una sola madre. Andiamo avanti con la lettura del testo, e inoltre si conoscono i turni del personale che si divide in medici, ostetriche e infermieri, di ogni componente del personale si conoscono il nome e il numero di matricola. Quindi abbiamo un'entità personale con matricola, identificatore univoco, cognome, nome, e poi questa gerarchia, costituita da medico, ostetrica, infermiere, e entità padre, appunto, personale. È una gerarchia totale ed esclusiva, perché se prendiamo tutti i medici, gli ostetriche e gli infermieri, otteniamo tutto il personale, almeno così sembra dal testo che abbiamo a disposizione, esclusiva, perché non esistono intersezioni tra questi tre insiemi, quindi un medico non può essere un ostetrico, non può essere un infermiere, un ostetrica, non può essere un medico e nemmeno un infermiere, e così via. Quindi, di ogni componente del personale si conoscono il nome e il numero di matricola, il turno, per ogni giorno della settimana, le ore di presenza, e le stanze a cui è assegnato. Quindi, lasciamo perdere per il momento stanze, assegnato, se è un'associazione, tra il personale e il turno, e vediamo come si può rappresentare questa situazione, così. Allora, il personale, che può essere medico, ostetrico, o infermieristico, lavora in un certo turno. Le cardinalità. Allora, dato un membro del personale, questo lavorerà su turni, nel tempo, è dato un turno, questo, in quel turno lavoreranno più membri del personale. Quindi, abbiamo delle cardinalità, 1N, su entrambe le entità. Possiamo anche iniziare ad occuparci della stanza, quindi nel reparto ci sono delle stanze e un turno, ogni turno, è assegnato un certo numero di stanze. Quindi, la cardinalità, lato turno, sarà 1N, mentre la cardinalità su stanza sarà di nuovo 1N, perché data una stanza, questa sarà assegnata a più turni, minimo 1, massimo N. per i miei sono assegnate. Domanda, chi sono i pazienti? Beh, naturalmente i pazienti sono sia le madri che i bambini, iniziamo però a pensare che siano le madri, tanto dalle madri si può risalire i bambini. Allora, in tal caso, abbiamo un'associazione che io ho chiamato cura tra la madre e il medico. Riduco un po' lo zoom così possiamo vedere il diagramma nella sua interezza. Il medico cura la madre. Le cardinalità di questa associazione sono 1N su medico, perché un medico si occuperà, si prenderà cura di una o più madri, 1N. Mentre la cardinalità su madre è 1N, perché una madre viene curata da uno e un solo medico, poi che effettivamente ci sono più medici che possono occuparsene un altro discorso, però normalmente ogni madre ricoverata nel reparto ha un medico a cui fare riferimento. Per ogni ostetrica si conoscono le madri assistite durante il parto. Abbiamo quindi un'altra associazione che collega l'ostetrica alla madre, la cardinalità su ostetrica è 1N, perché data un'ostetrica questa si occuperà, assisterà più madri, e la cardinalità sulle madri è 1N1, perché ad ogni madre viene assegnato un'ostetrica, quindi e c'è una o una sola ostetrica che si occupa di assistere la madre. I medici possono essere ginecologi o pediatri, o quindi gerarchia, gerarchia medico, ginecologo, pediatra, totale ed esclusiva, ginecologi e pediatri insieme formano il totale dei medici, esclusiva, perché uno è ginecologo o pediatra non può essere tutte e due le cose. Poi ho spostato l'associazione precedente, abbiamo visto prima cura, che era tra medico e madre, sul ginecologo, quindi ginecologo cura la madre, le cardinalità rimangono invariate. Ho aggiunto poi l'associazione segue tra pediatra e bambino, un pediatra può seguire da 1 a n bambini, mentre ogni bambino è seguito esattamente da un pediatra. Bene, abbiamo preso in esame tutto il testo, ora bisogna ancora andare indietro a rivedere le cose che avevo evidenziato. Il testo ci diceva che per ogni madre, oltre al nome e al tal tipo di parte effettuato, si conosce il numero di letto e il numero di stanza e anche eventuali malattie. Allora, eventuali malattie, visto che poi non c'è nessuna particolare richiesta, ho pensato di inserirlo come attributo di madre, un attributo atomico, quindi diciamo una stringa che contiene una descrizione delle varie malattie dichiarate. Ho poi specificato degli attributi per l'entità stanza che abbiamo visto prima, la stanza ha un numero e magari anche un nome e ho aggiunto l'entità letto. l'entità letto con un numero. C'è un'associazione tra il letto e la stanza che ho chiamato collocato, il letto è collocato in una ed una sola stanza, mentre nella stanza possono essere collocati da uno a n letti. Facciamo l'ipotesi che nel reparto ogni letto abbia una numerazione univoca, ossia non ci siano letti con lo stesso numero. Il letto è poi associato alla madre e al bambino, quindi la madre è ricoverata in un letto, il bambino è accudito in un letto. La cardinalità su madre e su bambino è uno uno, perché la madre è ricoverata in un letto, il bambino è ricoverato e accudito in un letto. Mentre dato un letto questo può ricoverare, può essere utilizzato per ricoverare, accudire più madri, più bambini, naturalmente non contemporaneamente. Allora, un'osservazione, se si volesse tenere traccia di tutti i ricoveri di una madre e quindi sapere nel tempo quali letti ha occupato durante il suo ricovero, questa cardinalità non andrebbe bene, dovrebbe essere uno n. Però, insomma, faccio delle semplificazioni e delle ipotesi, perché intanto non ho informazioni precise, si tratta solo di un esercizio, quindi ipotizzo che si voglia tenere traccia solo del letto dell'ultimo ricovero. Per poter ricavare lo schema logico mediante la traduzione dallo schema R ho deciso di togliere via dalla gerarchia che è medico, ginecologo, pediatra l'entità genitore medico e lasciare l'entità figlia che quindi diventano parte di questa gerarchia compersonale. Ho poi deciso di sostituire la gerarchia compersonale tutte le sue sottentità con una associazione, con diverse associazioni di tipo uno a uno opzionali. Vediamo un esempio, quindi ho mantenuto l'entità ostetrica e aggiunto l'associazione ostetrica tra ostetrica e personale. Si tratta di un'associazione 1 a 1 opzionale perché presa un'ostetrica questa fa sicuramente parte del personale ma preso un membro del personale non è detto che questo sia un'ostetrica. Inoltre questa l'ostetrica non ha un identificatore univoco perché viene identificata esternamente utilizzando l'identificatore univoco di personale. Ecco lo schema R definitivo. Il personale lavora su uno o più turni e ogni turno è assegnato un certo numero di stanze. Nelle stanze sono collocati dei letti. In questi letti sono ricoverati o accuditi le madri e i bambini cioè un legame tra madre e bambino grazie a questa associazione figlio il bambino è seguito dal pediatra la madre dal ginecologo ma anche dall'ostetrica e il personale è costituito da ostetriche infermieri ginecologi e pediatri quindi possiamo passare allo schema logico relazionale cioè alla traduzione dello schema R nello schema logico la prima cosa da fare e che io suggerisco di fare è di iniziare a scrivere tutte le entità con i loro attributi e qua vedete appunto tutte le entità con gli attributi successivamente possiamo passare a fare la traduzione delle varie associazioni prendiamo in esame l'associazione letto collocato stanza e osserviamo che si tratta di un'associazione di tipo 1 a molti quindi la traduzione sarà fatta prendendo la PK cioè la primary key di stanza cioè numero e andando ad aggiungerla all'altra entità relazione letto come chiave esterna l'associazione assegnato turno stanza è invece un'associazione molti a molti e la traduzione verrà fatta andando ad aggiungere una nuova relazione o tabella che io ho chiamato turno stanza che avrà come chiave primaria un attributo scusate l'insieme formato dalla chiave primaria di stanza e di turno quindi i di turno e numero stanza sono insieme chiave primaria per turno stanza separatamente però sono chiavi esterne che fanno riferimento rispettivamente alla tabella turno e alla tabella stanza man mano andiamo avanti quindi questo schema logico viene completato consideriamo l'associazione lavora personale turno sempre di associazione molti a molti si tratta quindi creo una ulteriore tabella turno lavoro che avrà come chiave primaria l'unione delle chiavi di turno e di personale ossia i di turno e i di personale ho cambiato i nomi ma rappresentano sempre le stesse informazioni queste questi attributi i di turno e di personale sono anche rispettivamente chiavi esterne per che fanno riferimento a turno e a personale qui qui abbiamo tutta una serie di associazioni 1-1 opzionali con identificazione esterna quindi andremo a mettere per ciascuna di queste entità ostetrica infermieri ginecologo e pediatra come chiave primaria la chiave di personale quindi la matricola e questa diventerà anche chiave esterna per fare riferimento appunto a personale consideriamo assiste e cura ostetrica assiste madre ginecologo cura madre sono entrambe associazioni uno o molti quindi dobbiamo andare a prendere per quanto riguarda assiste la chiave primaria di ostetrica e metterla dentro a madre per quanto riguarda cura prendiamo la chiave primaria di ginecologo e la mettiamo come chiave esterna dentro a madre e quindi ci troviamo ad avere una situazione come questa analogamente l'associazione segue tra pediatra e bambino e di tipo uno molti quindi prendiamo la chiave primaria di pediatra e la andiamo a mettere come chiave esterna in bambino la chiave primaria di pediatra e matricola la mettiamo come chiave esterna in bambino cambiando semplicemente il nome per rendere più chiaro il tutto l'associazione tra madre e figlio madre e bambino figlio è sempre di tipo uno molti e rispetto alle precedenti anche un attributo allora si prende la chiave di madre chiave primaria di madre la si mette come chiave esterna in bambino e l'attributo data nascita segue la chiave esterna e quindi avremo bambino che ha come chiave esterna l'ID della madre e attributo ulteriore data nascita per l'associazione ricoverata madre letto sempre il solito discorso l'associazione uno molti prendo la chiave primaria di letto la vado ad aggiungere la madre come chiave esterna quindi abbiamo letto che ha chiave primaria numero viene aggiunta come chiave esterna a madre stesso discorso per accudito bambino letto associazione uno molti prendo la chiave primaria di letto la aggiungo come chiave esterna a bambino quindi il numero del letto diventa forre in chi per il bambino e finalmente ecco lo schema logico completo un'ultima osservazione importante è sulle associazioni molti e molti supponiamo di avere questa tabella turno e quest'altra tabella turno lavoro allora nella tabella turno abbiamo i vari turni turno di D1 giorno lunedì durata 6 ore ora inizio 24 turno 2 sempre nella stessa giornata sempre 6 ore la durata però inizia alle ore 6 e così via fino ad arrivare all'ultimo turno possibile nella settimana poi abbiamo la tabella dei turni di lavoro per cui da qui si capisce che il personale di D100 dovrà lavorare nel turno 1 l'ID di personale 101 ha anche quello di D107 nel turno 2 e così via ma cosa succede se io voglio cambiare il turno del personale di D100 e quindi il lunedì invece di far lavorare questo personale nel primo turno dalle ore 24 voglio farlo lavorare nel turno che parte dalle ore 12 e per come abbiamo strutturato le informazioni questo non va bene non posso andare a registrare che il personale di D100 lavora nel turno 3 e anche nel turno 1 perché allora ammesso che non si possa lavorare più di 6 ore durante la stessa giornata ecco questa sarebbe un'informazione inconsistente un'informazione che non mi permette di capire qual è il reale turno di questo dipendente è evidente quindi che per come abbiamo come io ho fatto la progettazione all'interno di questa tabella turno di lavoro non è possibile avere per ogni personale turni che sono ripetuti nella stessa giornata per lo stesso dipendente naturalmente questo significa che noi non potremmo tenere uno storico dei turni cioè io non potrò risalire a settimane prima per sapere qual era il turno che ricopriva un certo dipendente ma se avessi invece la necessità di memorizzare questo storico dei turni allora la progettazione dovrebbe essere modificata questa è una scelta corretta non si può rispondere a questa domanda perché bisognerebbe avere più informazioni e eventualmente anche un contatto diretto con il nostro committente cosa che noi non abbiamo per cui l'importante è fare delle ipotesi aggiuntive e poi svolgere la progettazione coerentemente con quelle ipotesi che si sono fatte un ragionamento del tutto analogo può essere fatto per le stanze che vengono assegnate i turni anche in questo caso per come io svolto l'esercizio terrò traccia solo delle assegnazioni relative a una certa settimana quindi ai turni di una certa settimana bene anche questo esercizio è terminato vi saluto ci vediamo al prossimo esercizio di un'esercizio